Musica Alluvione 2020 a Ornavasso i sindaci fanno il punto della situazione pressing sulla regione per un incontro Sopra luogo di Borghi e Bussoni a Massiola uno dei comuni più colpiti dall'alluvione dell'ottobre 20 La navigazione Lago Maggiore aumenta fino all'80% la disponibilità di posti sui propri mezzi Nella parco di Villa Maioni a Verbagna ieri la presentazione di tre dei cinque libri in lizza per il premio strega Via 10 settembre a Premosello Chiovenda ha cambiato look, nuovi murales dedicati al parco della Val Grande La RG Ticino batte la biellese nello spareggio e festeggia la prima storica promozione in serie D Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia Allora lo avete sentito dai titoli in apertura del nostro giornale si parla di alluvione Perché oggi c'è stata una lunga giornata sul territorio per fare il punto sulla situazione Da ottobre ad oggi sono passati parecchi mesi I sindaci della Bassosso assieme ai colleghi del Verbano e del Cusi Ora si mobilitano per chiedere alla regione un incontro Intanto oggi c'è stato un rendezvous a Ornavasso con il parlamentare del PD Enrico Borghi Un incontro urgente con la regione Piemonte Quanto hanno deciso di chiedere i sindaci dei comuni alluvionati lo scorso ottobre Da Macugnaga a Baveno tutti vogliono si definisca il percorso di messa in sicurezza dei territori A preoccupare l'instabilità della montagna ad ogni allerta maltempo Siamo costretti ad evacuare zone del paese Il grido d'allarme di Maria Grazia Medale, sindaco a Pieve Vergonte Gli ha fatto eco il collega di Ornavasso, Filippo Cigola Fulgosi Che ha ricordato la fragilità del territorio in caso di nuove calamità La decisione di chiedere a Ciri un incontro è arrivata a margine della riunione Promossa nel pomeriggio a Ornavasso da Enrico Borghi, parlamentare del PD A preoccupare i sindaci per essere la mancanza di notizie sul tema Se in questi giorni abbiamo avuto rassicurazione circa i finanziamenti relativi alle spese per le somme urgenza Dicono così non è per la ricostruzione Al tavolo di Ornavasso si sono seduti i primi cittadini di Gravellona Torce, Mergozzo, Ornavasso Bogonia, Massioli, Macugnaga, Pieve Vergonte, Calasca e l'assessore di Baveno Maria Rosa Gnocchi Enrico Borghi ha tracciato lo stato dell'arte dicendosi disponibile a collaborare Ha anche annunciato il suo impegno sui banchi di Montecitorio Perché l'Aula approvi quanto prima il provvedimento con cui concede ai cittadini Che hanno subito danni dall'alluvione l'esenzione fiscale per quanto attiene la Tari Su questo punto il parlamentare ha lanciato un appello ai colleghi degli altri partiti per un lavoro comune Si lavora su più piani, i sindaci infatti faranno pressing sulla regione Piemonte Per uno sgravo contributivo sui tributi regionali, bollo e addizionale Eripef Tra i problemi risolti c'è anche quello della delocalizzazione Nel viceo sono due i comuni colpiti, Pieve Vergonte e Mergozzo In entrambe ci sono due nuclei familiari costretti a vivere lontani dalle loro abitazioni E che ancora non hanno ricevuto nessuna forma di indennizzo Un problema noto a Torino solo due settimane fa Maria Grazia Medali e il collega Paolo Tonietti, sindaco di Mergozzo hanno scritto al presidente Cirio chiedendo notizie Intanto a fine mese scadono i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei privati che hanno subito danni Troppo complicati i parametri decisi da Torino Il rischio è che pochi decidano di presentare la domanda di rimborso E la giornata di Enrico Borghi nel viceo era cominciata in mattinata a Massiola dove ha portato il presidente nazionale dell'UNCEM per rispondere a quel grido d'allarme lanciato dal sindaco Albertini che diceva che la sua comunità si sentiva isolata Presidente, da Massiola può forse partire un modello esportabile in tutto il paese sulla voglia di ripartenza, sulla voglia di farcela? Io credo di sì e stamattina l'abbiamo confermato perché quando ci sono le istituzioni la comunità si sente pezzo di uno Stato che non lascia indietro nessuno indipendentemente dai problemi che ci sono stati sulle frane qui il punto centrale è far sentire la comunità parte di un progetto di rinascita credo che questa giornata, la prima senza mascherine all'aria aperta e la prima che guarda all'estate in cui arriveranno molte persone debba dire allo Stato, alle istituzioni nazionali e regionali Massiola non è sola Massiola lotta per avere delle risorse, per fare investimenti e per avere un percorso di futuro che la renda migliore del passato Massiola non è sola, è questo il messaggio che il governo attraverso lei ha voluto esprimere questa mattina a tutta la comunità? Sì, la cosa grave è che ci possono essere comunità che si sentono abbandonate la prima risposta delle istituzioni è di scacciare questa tentazione che rischia di innescare un meccanismo di non ritorno al contrario noi abbiamo voluto testimoniare il fatto che questo può essere un modello con il quale costruiamo l'Italia del post pandemia un'Italia che riparte dalla realtà cosiddetta marginale, cosiddetta periferica ma che in realtà costituisce per la sua capacità di comunità il punto fondamentale su cui costruiamo un paese più giusto, diverso e più solidale le risorse paradossalmente ci sono, sono messe a disposizione e nel corso dei prossimi giorni i sindaci cominceranno a ricevere dalla regione delle indicazioni altre ne arriveranno, il problema è lavorare insieme per fare in modo che non vengano disperse e che vengano finalizzate al meglio e lanciare il messaggio che si parta da Massiola significa partire da luoghi che hanno bisogno indipendentemente dalla loro dimensione numerica Diamo un po' di numeri di queste risorse Ma intanto c'è stato uno stanziamento di 15 milioni da parte del governo a cui è seguito nei giorni scorsi un ulteriore stanziamento che ha portato a 90 milioni per la somma urgenza su tutta la regione Piemonte la regione Piemonte rende in contatto circa 89 milioni quindi si sta iniziando a mettere in moto la macchina ci sono ulteriori 100 milioni a disposizione stanziati con la legge di bilancio e altri ne arriveranno penso i 300 milioni stanziati sulla viabilità per le aree interne quindi paradossalmente il punto non è tanto mettere a disposizione risorse quanto essere capaci di intercettarle e fare dei progetti di qualità per evitare che poi le opere crollino come in questo caso E lo avete visto anche in queste immagini per la comunità di Massiola è stata una sorta di festa oltre al sopralluogo questa mattina sentiamo come ha commentato il sindaco Sindaco, soddisfatto dell'incontro delle parole di questa mattina? Pienamente soddisfatto perché in questi nove mesi non abbiamo mai visto nessuno che io ho denunciato che eravamo soli adesso dalle parole dell'Onorevole ci ha detto che non siamo più soli abbiamo più forza, più coraggio, più brio per vedere di ritornare a fare delle cose che per il nostro paese ha bisogno Come sta la sua comunità? Come ha vissuto questi mesi difficili? Ma dire che sta male no però hanno patito quello di non trovarsi più assieme perché quando Massiola è viva c'è la banda che suona il giovedì alla domenica ci sono le feste sale la gente da Omenia che ha le case qui si trova, si fa la festa questo è mancato in questo periodo per cui quello che avevo detto che il paese era morto era la realtà adesso vediamo uno spiraglio molto più chiaro non per la stagione anche adesso che la pandemia va meglio però il paese ha bisogno di queste cose e oggi abbiamo avuto nella presenza dell'Onorevole e del Presidente dell'UNCEM il coraggio di continuare Allora il Sindaco accennava al miglioramento sul fronte sanitario e questo per la navigazione Lago Maggiore si traduce in un aumento dei posti disponibili sui mezzi Finalmente la navigazione Lago Maggiore può incrementare i posti a bordo delle motonavi già contingentato per l'emergenza sanitaria lo conferma il Direttore Generale dei Tre Laghi Maggiore come Garda Alessandro Coafredda dopo quasi 10 mesi di riduzione al 50% possiamo finalmente incrementare la capienza delle nostre navi spostando l'asticella fino all'80% questo ci garantirà di poter affrontare al meglio la stagione turistica che anche se partita a rilento ora sembra in fase di ripresa chiaramente la deroga sul contingentamento non ci farà abbassare la guardia e l'osservanza del protocollo di sicurezza a bordo delle nostre imbarcazioni dovrà continuare a essere rispettato come la rilevazione della temperatura l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento il passaggio in zona bianca delle regioni interessate dai laghi Maggiore Garda e Como potrà aiutare sicuramente la ripresa del turismo di prossimità e quello internazionale per questo motivo Navigazione Lago ha stipulato iniziative e accordi per favorire il rilancio turistico le iniziative l'11 luglio in occasione di Stresa Liberty saranno organizzate tre crociere a bordo dello storico peroscofo Piemonte che in un tour di circa un'ora navigherà tra le isole Borrome fino a raggiungere Palazzo e Rientro oppure le diverse gite fuori porta treno più battello che con un unico biglietto a tariffa scontata si può prendere il convoglio di Trenord da tutta la Lombardia per raggiungere il lago e salire a bordo dei battelli di Navigazione Lagi dettagli e biglietti su www.navigazionelaghi.it inoltre è stato rinnovato anche l'accordo per la vendita dei biglietti d'ingresso ai palazzi Giardini Borromeo presso tutte le biglietterie di Navigazione Lago Maggiore in aggiunta con il recente lancio della nuova app Dream Lake Navigazione Lagi ha fornito al viaggiatore moderno un nuovo strumento capace di far vivere a pieno l'esperienza sul lago rimanendo sempre aggiornato su eventi, crociere percorsi da condividere direttamente sui propri canali social l'app Dream Lake è scaricabile gratuitamente su tutti gli store ed ora siamo alla pagina culturale perché a Verbagna è ritornato ieri il premio strego meglio tra i dei 5 finalisti in lizza per questo prestigioso premio i tre scrittori hanno incontrato la stampa presso il Grand Hotel Majestic di Pallanza poi a Villa Maglioni nella serata la serata appunto di presentazione anche quest'anno il Comune di Verbagna ha voluto legarsi al premio più prestigioso in Italia il premio letterario strega sono arrivati per presentare i loro libri tre dei 5 autori finalisti nel 2021 la presentazione con il pubblico nel parco di Villa Maioni alla biblioteca ma nel pomeriggio c'è stato il consueto incontro con la stampa erano presenti Donatella di Pietrantonio Emanuele Trevi e Andrea Baiani la manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione ovviamente con la fondazione Bellonci che è organizzatrice dello strega la fondazione Il Maggiore e la libreria Spalavera dopo l'arminuta Borgo Sud è una storia che parla di due donne di un legame intimo e di sentimenti importanti Borgo Sud parla di due sorelle diventate adulte che però hanno alle spalle una radice comune di disamore di deprivazione affettiva vissuta all'interno della famiglia di origine e quello che racconto è il loro attraversare la vita adulta andare incontro alle relazioni da grandi che sono però ancora fortemente condizionate da questa infanzia e adolescenza private degli affetti primari come è nata l'esigenza di raccontare queste due vite due vite di scrittori prematuramente scomparsi ma più che di esigenza soprattutto parlerei del tempo del tempo giusto Rocco e Piaso due persone hanno lasciato delle tracce straordinarie nella vita delle persone quindi c'è una comunità di persone che l'ha riconosciuto ma con tutta la gratitudine nel senso di fraternità e posso avere con persone che hanno voluto bene le stesse persone la vera posta in gioco e fare immaginare delle persone a chi non le ha mai conosciute esattamente come un personaggio fantastico Harry Potter mettiamolo raccontare una storia raccontare una vita attraverso le case come è venuta questa idea? credo che sia nato dall'idea di provare a invece di pensare che ogni età è funzionale a quella successiva di provare a pensare che ogni età ha diritto di esistere per quella che è noi siamo stati una cosa a tre anni una cosa a cinque una cosa a quaranta e provare a raccontarci in qualche modo l'unica possibilità per provare a raccontarci è provare a mettere l'occhio dentro le case in cui siamo stati e creare un piccolo montaggio un piccolo puzzle credo che sia nato da quello credo che sia nato anche dal desiderio di fare pace con tutte le età che sono stato ed ora invece vi portiamo a Premosello in una piccola via dedicata alla Val Grande via 10 settembre a Premosello a Chiovenda ha cambiato volto terminati in questi giorni i murales nati dai pennelli dei due giovani writer liguri gli artisti armati di bombolette e vernice hanno dipinto i muri di recinzione delle abitazioni che si snodano lungo la via un lavoro commissionato da Fausto Pella ingegnere Brianzolo di origini premosellesi sempre lui due anni fa finanziò le opere di restauro di una meridiana realizzata nel secolo scorso dal padre in quell'occasione sempre lungo la via sono stati realizzati i primi murales quelli odierni si ispirano alla flora e alla fauna del parco nazionale Val Grande di cui Premosello Chiovenda fa parte d'ora in poi chi si trova a transitare lungo via provinciale in uscita dal paese verso Vogonia non potrà non notare la via ricca di colori completano il progetto una serie di pannelli che tempo permettendo saranno posati in questi giorni anche loro sono frutto dell'ingegno di Fausto Pella l'ingegnere Lombardo di adozione si è ispirato ai racconti che narra personaggi fantastici il libro Il Basilisco e a proposito di arte inaugurata nella passato fine settimana la collettiva degli artisti aronesi che espongono verso Spazio Moderno Sogni di inizio estate i soci di arte ad Arona riprendono la loro attività culturale e artistica chiaramente allo Spazio Moderno qui ad Arona con una mostra che contiene più di 80 opere fino all'11 luglio ci saranno dei temi quante novità che cosa c'è Giancarlo in questa collettiva? Beh, innanzitutto c'è la voglia di ripartire e già questo non mi sembra poco perché la pausa forzata che tutti quanti abbiamo patito è stata piuttosto pesante per tutto l'ambiente artistico e culturale c'è rovescio della medaglia chi di noi si è trovato recluso in casa ha avuto la possibilità di produrre di più di quanto probabilmente non avremmo potuto fare se avessimo goduto della libertà di movimento Un'ottantina di opere quindi per questa occasione delle bellissime opere che chiaramente fanno venire voglia d'estate e si potranno visitare in quali giorni? Gli orari di apertura sono i soliti nel senso che tutti i giorni della settimana al pomeriggio dalle 16 alle 19 il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12 poi naturalmente siamo sempre stati elastici e non abbiamo mai cacciato alcun visitatore Ci saranno delle attività collaterali? No, in questa occasione non abbiamo previsto alcun evento semplicemente perché temevamo che la vicenda dei restringimenti dovuti al covid si prolungasse ulteriormente quindi già aver fatto una collettiva è stato un osare perché oggi di fatto è il primo giorno in cui possiamo permetterci l'uso di andare in giro senza mascherine non c'è un tema particolare cosa che invece solitamente è guidata Sì in effetti le istruzioni che abbiamo dato ai 37 soci che hanno deciso di partecipare a questa collettiva erano semplicemente due la prima era il tema è libero purché non portate soggetti invernali e l'altra indicazione era è stata potete portare tre opere vi garantiamo che almeno due verranno esposte ed ora invece siamo alla calcio partiamo con i festeggiamenti dell'RG Ticino per la promozione in serie D storica è festa verde granata al Silvio Piola di Vercelli l'RG Ticino è in serie D la squadra di Celestini va in svantaggio nel primo tempo per il gol di Menabò ma nella ripresa il rigore di Colombo e la rete di Malvestio in pieno recupero regalano una storica promozione alla società la prima frazione è tutto sommato equilibrata ma le occasioni migliori sono di parte biellese all'undicesimo Menabò si ritrova il pallone nell'area piccola ma da pochi passi spara alto il centravanti bianconero si rifà però al diciassettesimo splendida imbucata in area di Cambò che trova proprio Menabò controllo e conclusione vincente per il vantaggio della biellese doccia fredda per l'RG Ticino che rischia ancora il ventottesimo contropiede della biellese con Artiglia che serve dentro per Latta che calcia a incrociare ma la palla termina di poco a lato al trentottesimo c'è un episodio dubbio con Menabò tutto solo in area che finisce a terra sull'intervento da dietro di Rossi ma l'arbitro non concede calcio di rigore e anzi ammonisce l'attaccante il primo tempo si chiude 1-0 nella ripresa si fa vedere in avanti l'RG Ticino al quarto con la rovesciata di Scienza che però è imprecisa al settimo minuto poi episodio chiave del match Colombo riceve in area e calcia ma c'è un tocco di mano e l'arbitro concede dunque calcio di rigore verdegranata dal dischetto lo stesso Colombo trasforma firmando il pari per i suoi sull'onda dell'entusiasmo i novaresi provano a completare la rimonta al sedicesimo il calcio di punizione di Bugno si stampa sulla traversa e fa tremare la squadra bianconera al trentacinquesimo la biellese trova il gol con Latta che di testa mette in rete ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco il match sembra ormai destinato ad andare ai supplementari ma in pieno recupero al quarantasettesimo Malvestio viene pescato in area e al volo con un pallonetto scavalca il portiere e firma l'uno a due l'RG Ticino difende poi con i denti il risultato negli ultimi minuti e al triplice fischio può cominciare la festa l'RG Ticino è per la prima volta nella sua storia in serie D come ogni lunedì alle 20.35 l'appuntamento è con dilettanti per dire la trasmissione sarà in replica domani alle 13.17 questo è l'ultimo appuntamento della stagione e dunque tra poco l'ultimo appuntamento con dilettanti per dire della stagione 2020-2021 una stagione complicata per chi ha mai calcio tra sospensioni campionati annullati e poi per fortuna nel finale di stagione il campo è tornato a parlare con la promozione del Gozzano e la promozione di ieri dell'RG Ticino che ha vinto lo spareggio con la Bielese parleremo vedremo le immagini della festa le parole dei protagonisti insieme a noi Fabrizio Leonardo ciao Fabrizio ciao carissimo un cordiale saluto a tutti gli amici a casa insomma Fabrizio sono ora anche febbrili per il Gozzano nelle prossime ore nei prossimi giorni ci sarà una scelta in questo momento correggimi se sbaglio lo scenario più plausibile più logico è quello di una rinuncia alla Lega Pro è una ripartenza hai detto giustamente ore febbrili per essere a posto quindi quando ti rilevano la temperatura va all'ingresso di qualsiasi cosa devi avere una temperatura basale molto adeguata e noi cercheremo di limitare l'aumento della temperatura anzi di raffreddare ahimè un po' troppo gli entusiasmi ma questa è la realtà probabilmente saremo ancora in serie di insieme a lui insieme a Fabrizio Renardi c'è il direttore generale delle Verbagna Jacopo Nessi ciao Jacopo ciao buonasera a tutti Verbagna che si sta già muovendo Giovanni Scotto che entrano in società confermato Porco stanno già lavorando da un mesetto confermato Porco confermato Austoni Tettamanti poi ne parleremo e poi oramai manca solo la firma per la ratifica dell'accordo con l'Accademia assolutamente sì diciamo che in un paio di settimane si chiuderà il tutto e solo stiamo facendo solamente portando avanti gli aspetti burocratici perfetto insomma non perdetevi l'ultimo appuntamento dell'anno con dire tanti per dire ora invece siamo al ciclismo perché quella di ieri in Valle Antigori è stata una grande giornata per il mondo delle due ruote giornata azzurna ben riuscita domenica con le tre gare per allievi desordienti organizzate dal pedale Ossolano Hydroveld da prima spazio agli allievi con il secondo trofeo nordosso la Omenia Crodo di chilometri 71 e 200 in 73 al via scarna la cronaca con la gara che pur segnalando scatti e controscatti diventa spettacolare solo nel finale da prima con un attacco di sei uomini sulla rampa che porta a Crodo Paese e poi con lo sprint finale dei medesimi braccati dal gruppo a vincere in via Torototela è stato il campione regionale Alessandro Perracchione Yonbaid Balmamion che ha anticipato di giustezza il laziale di Latina Federico Arnauti della logistica ambientale terzo Luca Giaimi della US Alassio Sì ho fatto una bella gara abbiamo la fuga andata via sulla rampa prima in giro come immaginavo perché comunque era dura e la differenza si è fatta lì poi nella fuga abbiamo sempre collaborato tutti e siamo arrivati fino all'arrivo e nella volata finale sapevo che potevo vincere l'ho preso in testa perché poi non era tanto lungo il ritirino finale per superare era un po' un obiettivo questa gara o è nata un po' così durante così durante la competizione no sicuramente ero venuto per vincere adesso i prossimi tuoi target i tuoi obiettivi campionati italiani su strada e campionati italiani a canone esatto è toccato poi alla doppia gara esordienti il quinto trofeo Meneghello quinto trofeo comune di Crodo col classico circuito tutto crodese al Verampio spazio di primo anno 44 al via su un percorso di 31 chilometri gara senza nulla da segnalare se non lo sprint finale che sorride ancora ad un portacolori del team dedicato a Franco Balmamion è il vercellese di Trino Gregorio Acquaviva che vince precedendo Nicola Cerame della Castellettese ed Edoardo Orengo della Scott Libarna bravo Luca Tartagia del Pedale Ossolano che chiude ottavo bella divertente spettacolare è stata invece la prova del secondo anno con 36 chilometri da affrontare 48 atleti al via nel finale fa il diavolo a 4 Lorenzo Rossini del Pedale Ossolano che da prima attacca con Gabriele Peluso del Valenza e poi ha favorito l'attacco di un terzetto con il campione regionale Giacomo Dentelli sempre del Valenza e Tom Alberardi della Vigor Piasco sprint a 3 di fronte al Foro Boario e l'Ossolano vince su Dentelli e Bernardi bene anche Alessio Rossi sempre del Pedale ottavo davvero una gran bella domenica non ci sono aggiornamenti io mi fermo qui vi rimando al nostro sito vinceazzurratv.it grazie e buon proseguimento